indovinate chi è questa bellissima bambina con questo bellissimo vestitino e anche questo tutu eh sì perché questa gonnellina è come un tutu vero che ti ha messo questa bella vestina la mamma la mamma perché adesso lei può stare eccomi qua può passare i pomeriggi a casa con la mamma e il papà e va con la valentina oggi quando mi sveglio hai il fiume vero all'ago all'ago sì perché adesso alice sabato e domenica amico il loma è un po' birichino adesso vi spieghiamo bene allora aspetta ti deve presentare anche qualcuno sì aspetta voglio prendere dalla scuola ok aspetta sposti la bottiglia questo voi scusate ecco qua ecco prima giornata della fila vieni in bravo aspetta un attimo che prendiamo un supporto per questo scusate vi porto un po in giro per la cucina ecco qua così vieni in braccia non eccoci qua adesso vi stavo dicendo che lei adesso passa i pomeriggi a casa con la mamma e il papà a guardare che o al parco o a prendere il gelato o altre cose il suo amico coniglietto e poi un'altra cosa importante adesso lei può stare il sabato e la domenica dormire alla casa nuova e poi andare a passeggio con il papà e la mamma posso dormire a 30 giorni al fiume al fiume no al lago no domani vanno a passare il weekend al lago a casa di una di una loro amica di una coppia loro amica che ha una bambina che ha un anno più di te Valentina ho quattro anni cinque quasi lei anche io quasi e anche la mamma poi appena compiuto i quattro ma racconta un po' che bella festa hai fatto come eri vestita da apri con cosa avevi qua la coroncina bup 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 bu claccini giochiii e niente così vi abbiamo detto queste novità vi abbiamo fatto conoscere anche il mister coniglietto la voglio scrivere ilgili tutto ciò ciao. Mi devi raccontare qualcos'altro aspetta porto le bolle no le bolle no in casa amore ma io non le apro vuoi solo farle vedere si ah no ma ormai la nonna ha chiuso le fuori non possiamo più uscire fino a domani perché è sera dobbiamo andare a nonna adesso vero ma dopo ci ha finito il video doveva fare la gara delle mele io non ho capito com'è questa gara delle mele così che è il primo a mangiare ha vinto ma adesso è ora di andare a letto non di mangiare le mele ma io volevo una mela ma è ora di andare a nanna adesso ti prego fa vedere che musetto fai quando dici ti prego alla nonna ti prego ti prego no ma la mela adesso prima di dormire no dai ma se mi piace che cucciola ma voi resistereste io non riesco a esistere dai salutiamo tutti adesso facciamo vedere un'ultima volta il tuo vestitino ecco qua guardate che meraviglia corpino no senza far vedere le mutande aspetta aspetta è la sotto gonna questa è la sotto gonna è la sotto gonna e sopra c'è il tulle questo qui che come quello del tutto ma guarda il corpino di jeans vabbè stasera va così io direi che è giunto il momento di salutare davvero il nostro saluto alice vi salutiamo tutti con un abbraccio un sorriso e al prossimo video ciao 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 c'è